Siete pronti per una bella minestra che ci scalda un po' il cuore, un po' il corpo Allora oggi facciamo una cosa del nord Italia Una minestra trentina, con l'orzo perlato, quindi, orzo perlato, prima cosa poi, speck, questo è opzionale, ce lo mettono i trentini giustamente, però chi è vegetariano non ce lo può mettere erba cipollina, alloro, burro, zucca, questa l'ho inserita io, perché l'avevo dentro al frigorifero e ci starà sicuramente bene Parmigiano Sedano, porro, cipolla fresca patata e carota Va bene? Ok, adesso prima cosa, puliamo tutto Per la patate, eccolo qua, la carota già l'ho pulita, è questa, poi Cipollotto, andiamo col sedano, allora le coste quelle esterne Il sedano, come dicono a Roma, il cellero è già lavato, che facciamo, lo sfibriamo in questa maniera È una minestra ricca di sapore e ricca di verdure Questa non ci piace? Patata, la patata ci vuole sempre se buona, ok? Quindi facciamo così, sempre sbucciamo anche la patata Perché il lavoro più lungo è quello di pulire queste verdure e di Tagliarle, poi il resto, ce lo possiamo anche scordare, perché mettiamo tutto là dentro Nei tempi giusti, nei momenti giusti Mario, guardate, da una fetta di specchio, questo è buono, eh Tutte le buccette le leviamo, se lo mettete sempre, ammazza, ma chi pulisce dopo? Pulisce chi mangia, ok? Adesso ci abbiamo la zucca e il porro Però Voglio scartare insieme a voi un regaletto Muo qualcuno lì sbaverà Direttamente dal Giappone Ci hanno notato e ci hanno regalato questo bel coltello Giusto giusto Per le verdurine Guardate qui, guardate che maniche, manico bello Kamikoto Kamikoto Questo è perfetto per le verdurine Lascia qua dal volo Taglio la patata Vediamo un po' se taglia bene Mamma mia, vai Metto la patata qui dentro in acqua coperta così non si ossida Poi andiamo con il porro Facciamo così, taglio Guardate così, mamma mia come taglia questo coltello Allora faccio così, levo la prima, buccetta Vado così, poi guardate che cosa faccio, così Cipollotto, facciamo così, bello così a rondelline Perfetto, adesso la prima cosa che mettiamo dentro Mario Ti portiamo da Kamikoto, eh Allora mettiamo il cipollotto qui Metto il burro Un goccino d'olio Per alzare il punto di fumo del burro Adesso facciamo stufare la cipolla col burro Andiamo subito con anche lo speck Lo tagliamo a dadini Non tanto, eh Poi facciamo tutti quanti i datinetti Così Senti che musichetta Mi sento in baita, guarda, così Su rifugio Con gli sci Addosso E adesso ci mangiamo un po' questa minestra del Trentino Senti che musichetta Vai, così Si sentono già i profumi Alla mia sinistra Ho del brodo vegetale Fatto con, guardate Carota Setano E cipolla Niente di più Lo sapete, eh Non vi voglio vedere Che comprate quella roba Già fatta Adesso Se è musichetta Vado, porro Bello, ma facciamo passi anche questo Il setano Vado, vado, vado Poi Questo ci piace tanto a noi, eh Così Questo è il coltello Diciamo che potrebbe essere Quello ideale Per fare tante cose Si possono fare tante cose Soprattutto nei tagli Vado Il santoco Il modello è santoco Vado Sedano Carota Così Taglio questo pezzetto così Non si muove più Ok? Poi vado così 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 Poi Aggiungiamo anche Le nostre carotine Zucca Leviamo la buccia Ci mettiamo in questa maniera Così 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 Zucca Eccola qua Giriamo Mescoliamo bene A questo punto Metto Metto L'orzo Perlato Basta Mescolo Brodo Abbondante Foglie d'alloro Che profuma ancora di più questa minestra Adesso Prepariamoci le patate Vediamo a cubetti La patata E ce la teniamo da parte Per gli ultimi 10 minuti di cottura Allora Quanto deve stare a cuocere così L'orzo All'incirca 30 minuti Quindi lasciate Fuoco Medio Così Poi Assaggiamo se ha bisogno di sale Sicuramente sì Anche se abbiamo messo lo speck Un po' di sale ci vuole Ok, perfetto Ci vediamo fra mezz'oletta Sono passati 30 minuti Gli ultimi 10 minuti di cottura Aggiungo le patate Ti raccomando Aggiungete sempre il brodo Piano piano Un po' alla volta Perché l'orzo Mano mano che cuoce Assorbe Succhia il brodo Quindi Attenzione Tenetelo sempre bello bagnato Bravo Sì, c'hai ragione Siamo pronti Ho spento Guardate che bello Vedete le patate sono rimaste ancora integre Però cotte Nel frattempo ho fatto il bagnetturo a Mariuccio Mario, assaggiate questa Formaggio A casa Mariola Abbondante sempre Un goccetto d'olio Eccolo qua Erba cipollina Assaggia un po' Assaggia prima io Ma se buono Che bontà Mmm Buonissimo Buonissimo